Una partita ad alto rischio, intorno alla manovra si giocano anche i destini dell'Europa, ma è come questa volta l'Italia torna ad essere centrale. Lo rivelano le parole del commissario europeo all'economia Moscovici, per il quale il paese è un problema e in Europa nascono tanti piccoli mussolini. E poi la stoccata di Draghi al governo, quando parla fa danni. E non da ultimo la copertina del Time, che nella faccia di Salvini vede il nuovo volto dell'Europa, quindi l'addio del presidente della Consob Mario Nava, considerato troppo vicino a Bruxelles. Fattori che pesano sulle scelte economiche del governo, con Tria sempre sotto pressione stretta nella morsa tra le richieste delle due anime del governo. La settimana prossima si entra nel vivo dei provvedimenti da inserire nella legge di bilancio con le opposizioni all'attacco. Ma in Italia c'è il caos. Caos dovuto al fatto che esponenti di primo piano, i due vicepresidenti, soprattutto il vicepresidente Grillino, un giorno sì e l'altro pure, dichiarano cose fuori dalla grazia di Dio circa i conti. Anche in aula le opposizioni si fanno sentire, dopo il sì alla fiducia, l'ostruzionismo del Partito Democratico sul mille proroghe. Ha fatto slittare il voto ancora in corso sul provvedimento tra le misure e la proroga fino a marzo dei vaccini e il blocco dei fondi per le periferie urbane.